amici amichetti disegno sono già avanti non sono morto come cazzo è possibile testo bella che ne è qui bella quilla weee questo è il mio nuovo video porto di nuovo maggiore perchè qualcuno mi ha chiesto ma provare un video da solo poi vediamo se sei bravo o non bravo in effetti sto creando un server fa più schifo cioè non mi piace un server perché non è affatto per tutti per tutti e a me piace un server perchè ho pagato o non ho pagato se io creo un server per xbox 60 quindi qua tra tutti i miei vediamo cosa scegli qua con... Halo ce l'ho Halo e poi c'è il personaggio strano questo no prendiamo un po' di render per fare qualcosa di speciale poi vediamo che cosa quanti hanno presi? 4 ok con 4 x ok 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 ehhh facciamo ma com'era per fare... ehm ehhh 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 facciamo... facciamo... tè 10 10 così almeno posso fare qualcosa di... ma... ehm qual'era? ehm... aspetta no pilestero no ehm... cibo non penso ma dov'era per... tavolo da lavoro ecco uno uno tavolo da lavoro facendo così e cosa serve sul tavolo di lavoro? non ho capito cosa sarebbe il tavolo di lavoro vabbè ehm... ce lo teniamo un tavolo di lavoro e facciamoci già qualcosa di... armatura non si può fare niente mmm... no ho buttato... ok un'arma per esempio arma, spade, niente cioè non posso fare neanche la spade niente non ho... boh allora ehm... adesso dobbiamo cercare adesso un po' di... mhm... acciaio per fare le spade anche se non trovo spade eccola muori oh se ne va eh oh carne niente lana si vabbè la lana può sempre servire la lana può sempre servire il problema è dove cacchio trovare l'acciaio che non sto trovando proprio niente ok 0 0 0 0 0 quindi ho scavo terra invece ho un maiale maiale di merda muori 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 dammi la carne il posto più giusto nella e andiamola visto che tra poche notte in amore con i nostri amici amichetti visti che lo sono già avanti potete potete porca non sono morto come cazzo è possibile non sono morto va bene ok prendiamo un po' di prendiamo un po' di ferro per dopo che dobbiamo fare delle tre cose prima che prima che arriva notte e prima che arrivano gli zombie o un po' di zombie o i mostri i bastardi prima che arrivano loro prendiamo un po' arriviamo al minimo se arriviamo a ok ok questo non so cos'è un altro tipo un altro tipo può sempre servire e poi ragazzi sono già 20 minuti che faccio video e da solo ho fatto questo ovviamente devo trovare tante cose quindi ragazzi potete entrare e aiutarmi questa è un'avventura piccola piccola spero che tanti piaccia questa avventura eh adesso andiamo ho preso andiamo andiamo dentro porco dove vai che te mazzo è un colpo c'è un altro dov'è vabbè ho ucciso un porco e mo' ce n'è un altro che non lo vedo ho rotto un vetro aspetta 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 c'è ancora un ragno da qua vedo da qua vedo cosa succede fuori quanto sono nob anche come fosse casa mia perchè no spacco qua tutto perchè casa mia ok ok spacco tutto si è fatta una bella casa ma ci penso io adesso mmmm allora allora dove è il letto il letto allora il letto lo metto di qua no non va bene allora stacchiamo qua togliamo questa roba che per me non serve a niente ok allora il letto qua adesso prendiamo il forno se lo mettiamo qua vedete ah c'avevo la casa io il coglione che dicono ma se gli facciamo la casa ma ce l'avevo guarda qui allora mettiamo qua tutte le spade poi la paletta picconi che pono servire il ferro che ha ghise che poi devo riprendere la terra puoi stare ridosso puoi stare questa puoi stare qui e cosa metto ancora lì cosa che non ma sei sapere queste robe sa che vabbè cibo non è che devi finire con tutto adesso vabbè ce lo sei quindi quindi meglio tenere questo che sei pelle che non me ne farò nemmeno una sega questo adesso andiamo a fare i lavori perfetto ah 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 si facciamoci quando siamo a 24 sti cazzi guarda non so cosa mi devo fare però una porta una porta me la faccio per porsi il momento no mi faccio troppo contro il letto ciotola me la posso fare una ciotola sai una me la tengo una me la tengo una me la tengo un 15 un 15 ehh diciamo 14 e me la tengo quassette e boh ragazzi ci fermiamo qui ci vediamo al prossimo video sapete che devo mangiare il mio personaggio boh mi pare che adesso vabbè che c'è la vita come penso io po' chi lo sa e boh quando dice JackGamer al prossimo video se vi piace che ho fatto questa serie da solo o con qualcuno mettete un like e lo farò a prossimo video ciao